La sua forza del pensiero Sono ricca perché so cantare Ho fatto un corso di italiano nei migliori orari per me La mia insegnante e il mio gruppo Mi ringraziano per i corsi di cucina che faccio il martedì sera Ho riparato dei lavandini e ho maturato un bel credito Sono una donna facoltosa Ho messo sul conto corrente i miei talenti Ho un conto considerevole perché sono simpatico Perché mi piace cucinare e mi piace mangiare E mi piace cucinare con gli amici e mi piace stare in compagnia Ho scambiato le mie riviste con un tappeto proprio adatto al mio soggiorno Allora, per raggiungere un contatto Per raggiungere un contatto, devi cliccare la scritta Aggiungi un contatto La vedi? In alto a destra In alto verso il centro a destra Dove ci sono tutte le scritte Do lezioni di Skype ogni venerdì o martedì o giovedì In alto verso il centro a destra Dove dopo che ci Doni mi è andata In alto Grazie mille. 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 Grazie mille.